I gusti dell'Alto Molise. E' questo il marchio con il quale la Camera di Commercio di Sernia intende valorizzare le produzioni del settore lattiero caseario dell'Alto Molise. L'idea è stata sviluppata dall'Agenzia Speciale 6 nell'ambito di un progetto sulla sostenibilità ambientale. Per la creazione del logo è stato lanciato un concorso di idee, al quale hanno partecipato una decina di aziende di marketing della provincia. Quello vincente da questo momento diventa uno strumento di comunicazione che ha l'obiettivo di trasmettere un messaggio di garanzia, qualità, identificazione con il territorio e soprattutto comportamenti delle imprese corretti da un punto di vista ambientale. Tutte le aziende interessate possono fare affidamento su questo marchio a patto che rispettino determinati requisiti. Il presidente dell'ente camerale Pasqualino Persimone crede molto in questa iniziativa che almeno per una volta unisce anziché dividere. Abbiamo voluto creare un disciplinare del rispetto ambientale ma soprattutto una filiera corta tra i produttori di latte e i trasformatori del latte per dare un messaggio all'esterno creando un marchio che possa dare la riconoscibilità all'eccellenza del territorio. Faremo sì che questo marchio possa essere riconosciuto come marchio di eccellenza e quindi portare i prodotti di questo territorio sia su mercati nazionali che su mercati internazionali. 16 aziende complessivamente hanno già aderito però il progetto è aperto perché chi si adegua a questo disciplinare può rientrare nel marchio I Gusti dell'Alto Molise.